buon lunedì ciao ciao allora questa diretta avrebbe dovuto chiamarsi scusate ritardo abbiamo avuto dei contrattempi niente di grave cose di traffico eccetera eccetera per cui abbiamo dovuto spostare anche la diretta che avevamo detto alle 15 purtroppo è slittata ora però contrariamente a quello che avevamo detto sabato che non sappiamo non sapevamo il tema siamo andati in ritardo però adesso lo sappiamo il tema infatti come come probabilmente vedete dal titolo e vogliamo propor proporvi le novità di natale di sagomiamo e con questa diretta apriamo anche i preordini noi in questo momento non abbiamo il cartaceo per cui è un po difficile farvi vedere le immagini però probabilmente nella versione digitale di contro sono più chiare che non sul cartaceo quindi tra poi ciao fabrizio e tra poco iniziamo ad inquadrare il tablet che sfogliamo insieme a voi se interessa qualche cosa ce lo dite perché sull'altro telefono stefania c'è al listino aperto per cui se avete bisogno di prezzi eccetera eccetera e ce lo chiedete e noi vi diciamo il prezzo allora solito numero 370 10 25 425 425 forse se il tablet arriva salvo via famo forse ok quindi sto facendo 370 10 25 425 ok allora non siete ancora molto collegati evidentemente la forza perché speravano che ci collegassimo più però invece siete rimasti male ma tanto ma tanto lo sappiamo e infatti non so che fare perché andiamo al solito print screen in casa la togliamo adesso il numero perché sennò se la vedete indifferita e messaggi su whatsapp ok allora iniziamo a vedere la prima novità abbiamo detto sagomiamo come io sappiamo no le nostre sagomine di ligno e molto carina la prima novità inquadriamo la copertina si può fare un po di scena no poi interessante perché nel catalogo non si vede un tubo allora nel catalogo ci sono tutti i riflessi ci sono tutti i riflessi nostri fare il meteo muovi ci sono tutti i nostri fai peggio così guarda il sole che fa da specchio adesso facciamo una cosa giralo verso te vengo io alle tue spalle perché non si vede niente allora stavo dicendo nel catalogo è interessante perché ci sono fotografati anche i campioni dei vari oggetti per cui è realizzati per cui avete già chiaro più o meno come utilizzarli come impiegarli allora allora guarda un po' ho pieno di riflessi no no è che si è oscurato mi sembra da me ebbe per forza provo a vedere andando sulla pagina no no ci stanno meno meno riflessi ok vabbè proviamo ragazze perché purtroppo oggi questi sono i mezzi ci sono questi carinissimi kit sfera sapete la sfera quella non l'alzare per carità di dio vedi ci sta la mano mia o perché siamo in un orario sfavorevole per quanto riguarda le luci a questo punto avremmo dovuto aspettare ancora di più tanto ormai avevamo fatto tardi vabbè non lo so no ma si vede si vede comunque allora facciamo così ok ecco allora questi kit sono in tre versioni con la versione vedete renna e slitta poi versione eccola qua con le due renne e l'abete e versione con le casette ok i kit come vedete sono composti da tutti quanti i pezzi eccoli qua ciao rosa stiamo facendo il possibile allora allora mi metto e venire qui tu da me sì perché io sono all'ombra ciao rosa forse allora aspettato un attimo proviamo a cambiare la postazione mi avvicini il tablet per favore vediamo allora eccoci qua rivediamo il primo kit è la la palla di neve con delle ambientazioni questa è la prima versione slitta e renna i kit sono composti in questo modo poi seconda versione le due renne e gli abeti e ecco qua il kit terza versione gli abeti con la casetta ok e questo qua il kit qui avete anche le misure così vi potete rendere conto della dimensione ok questa è la prima novità poi io lo scopro un po con voi ah no c'è neanche un'altra versione vuota per cui l'ambientate come volete ok solo il kit della sfera vuota poi questi pupazzotti vedete hanno il faccione e le manine e possono essere inseriti nella sfera vedete qui c'è un esempio con la renna e abbiamo come personaggi il babbo natale la renna e il pupazzo di neve o l'orso ok questi personaggi possono essere anche montati guardate che carina con il kit delle frecce ok guardate che carina anche quest'idea molto molto carina le frecce sono messe con un nastrino quindi diventa un appendino vedete le tre frecce montate in questo modo attaccate sul nastrino attaccate sul nastrino e sopra uno dei personaggi andiamo avanti le scopriamo con voi eh carina poi ci sono i kit lo tenevo sì no io te lo do va beh se poi ci chiedono i prezzi te lo richiedo ah perché c'è i prezzi vabbè i kit decorazioni tridimensionali vedete sono in questo caso queste stelline che poi hanno i vari elementi tipo il naso la falda del cappello che si sovrappongono alla base e quindi diventano tridimensionali la stella con il pupazzo di neve stella col pinguino guardate quanto è carina e c'è anche la scritta sto leggendo la stella è con la renna e la stella col babbo natale molto carini molto poi abbiamo le calze in tre dimensioni ecco così vi inquadro anche le dimensioni disponibili ciao concetta anche le dimensioni disponibili sono queste qua che vedete e i guantoni guardate che carino stiamo facendo vedere le novità di sagomiamo purtroppo per il momento non abbiamo il cartaceo quindi ve lo stiamo facendo vedere dal nostro tablet se volete sapere il prezzo di qualcosa lo scrivete e noi ve lo diciamo e praticamente sono aperti i preordini questi sono gli alberelli che già conosciamo poi poi non vi fate ingannare come è successo a noi da questa immagine non è un kit con o forse sì sì questo è un kit che contiene tutte queste eh di tutto sì tutte queste stelle sì sì per scriverlo così è un kit poi lo verifichiamo quindi avete una stella da 20 cm una da 17 una da 14 una da 11 e una da 8 ok e qui poi ci sono varie idee per montarle prendi questo questa è un'idea questa è un'altra guardate che bella ok poi sfera sempre parliamo di sfere eh appendino quindi vuote ok non tridimensionali eh il mio primo natale con il cerchio porta foto vediamo se c'è un campione no non l'ha messo ok comunque questa si può decorare e in questo cerchietto mettete la foto del bimbo molto carina poi abbiamo queste altre sfere qui con sopra già incisa laser la scritta buon natale e merry christmas voi segnate se vi se volete sapere qualche prezzo eh e poi ci sono oh bello confessiamo che non l'avevamo guardato bene perché questo periodo e con gli arrivi nuovi eccetera non abbiamo avuto molto tempo quindi lo stiamo scoprendo con voi il catalogo ci sono le nuove placche delle forme allegre forma allegra casetta innevata il progetto finito viene undici per dodici c'è a cosa ci serve ad esempio per fare e questa casetta per riprodurla ad esempio in pannolenci in stoffa in carta è una una dima praticamente ok come se fosse uno stencil e abbiamo la casetta abbiamo il guantone e la calza si qua è scritto scritto male ha riscritto guanto ma è la calza eh ok questa oh bella questa è un'altra placca molto completa guardate per fare la stella tipo quella che abbiamo visto prima con il faccione di babbo natale eccolo qua carino carino molto carino molto 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 ok quindi avete praticamente lo stencil per farlo forma allegra stella di natale con la stella cioè con il fiore a tre o quattro strati cinque addirittura volendo questo questo fate le guardala guardala qua no no non c'è più che intanto pure qui c'è il listino aperto allora forma stella di natale queste le intagliate tutte fate le formine tipo di pannolenci di velluto quello che volete e poi le sovrapponete vi viene in 3d forma allegra abete per fare l'albero di natale e viene pure grande perché lo potete fare o 9x9 o 18x19 insomma un bella abete eh adesso bosca incantata ah questi sono altri kit guardate che meraviglia elementi come da foto sono 11 pezzi a kit questo è l'esempio realizzato guardate che bello con le luci bellissimo e questo è il kit grezzo quindi c'è la base dove poi voi andate a montare tutti quanti gli elementi molto bello questo idem kit casetta guardate che meraviglia sono 10 elementi che eccoli qua e il progetto finito viene 18x16 quindi bello grandino eh molto molto carino poi poi quest'altro kit che si chiama paesaggio abete buon natale qui è realizzato e qui avete gli elementi sciolti eh 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 vai rosa entrata nel mood natale eh eh eccolo qui poi abbiamo casetta buon natale sono questi tre elementi qua ad esempio dietro potremmo foderarla con una carta scrap disegniamo i cioè decoriamo tutto il contorno le scritte gli elementi e abbiamo una decorazione molto carina idem con la forma a stella idem con la bete e guardate 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 che meraviglia qui se ci fosse una persona che so io collegata me ne avrebbe già ordinati 38 lo la chiappa sogni di natale eh eh fantastico e gli elementi sono tutti questi bello mamma mia che bello questo è un'idea un'idea di calendario dell'avvento quindi abbiamo tutti i numerini l'agrifoglio questi sono tutti articoli separati il kit numeri l'agrifoglio e la placca e questa è un'idea di realizzazione poi nuova scritta merry christmas e nuova sfera guardate che bella ecco eccola qua una doppia sfera con la scritta al centro e poi ci sono tutti questi elementi sciolti e questa è un'idea di realizzazione ragazzi sagomiamo quest'anno mi sembra che abbia superato se stessa queste sono le forme che già conoscevamo qualcosa c'è anche quindi ve le faccio vedere un po' più velocemente ok queste sono le cose che già conoscevamo i pattini i guantoni gli ignomi babbo natale queste sono già praticamente tutte disponibili candy cane il soldatino i vari alberi ok ragazzi allora io avrei finito adesso ci scolleghiamo e chi è interessato a qualche cosa ci può scrivere su whatsapp diamo i prezzi non li abbiamo dati in diretta per non bello vero rosa piaciuto sono bellissimi questi progetti quest'anno veramente tanto tanto belli e scriveteci su whatsapp e vi diamo i prezzi di quello che vi interessa e se è possibile cercate di fare il print screen oppure guardando le immagini vedete che qui c'è sempre un codice in questo caso sfl 51 riguardatevi la diretta scrivetevi tanto io li ho sempre inquadrati questi codici e noi vi diamo i prezzi ok allora ragazze e diretta un po così un po strana però intanto vi volevamo iniziare a far vedere che cosa quali saranno i progetti e di questo di questo natale per quanto riguarda sagomiamo e noi già forse da questa settimana iniziamo a prendere qualcosa in casa e a realizzare qualcosa ok allora aspettiamo i vostri messaggi oggi non mi inquadro meglio per voi aspettiamo i vostri messaggi al 3 7 0 10 25 425 vi diciamo tutto quanto poi piano piano inizierò a lavorare per metterle sul sito quando saranno disponibili tutte quante anche nello shop vi avvertiamo ok allora grazie a tutti riguardatevi bene la diretta e così potete ammirare queste meraviglie ok ciao grazie ci vediamo domani ci vediamo domani c'è Deborah e saluta ciao ok ciao grazie grazie grazie